Belen Rodriguez e la rottura con Angelo, non ha mai elaborato la separazione con Stefano De Martino. La showgirl argentina non avrebbe mai superato la fine della storia d'amore con il conduttore ed ex marito, entrando in una girandola di relazioni. La rottura è ancora avvolta nel mistero, ma Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano sembrano essere arrivati definitivamente al capolinea. La storia d'amore tra la showgirl argentina e l'ingegnere siciliano è stata tra i gossip più chiacchierati dell'estate 2024, ma qualcosa si è improvvisamente rotto. Cos'è successo tra i due? Stando alle ultime voci, tra i motivi della separazione ci sarebbe anche Stefano De Martino. Scopriamo tutti i dettagli. Belen Rodriguez e Angelo Edoardo Galvano, la rottura. Nonostante l'ultima, coccente, delusione amorosa dopo la fine della storia con Elio Lorenzoni, Belen Rodriguez ha sempre dichiarato di non avere perso la fiducia nell'amore, ed è così che si è avvicinata ad Angelo Edoardo Galvano. Con l'ingegnere siciliano, un personaggio finalmente lontano dal mondo dello spettacolo e dalla luce dei riflettori, tutto sembrava proseguire a gonfie vele. I due hanno trascorso qualche giorno di vacanza in Sardegna e lui sarebbe dovuto andare a trovare la famiglia Rodriguez all'isola di Albarella, in provincia di Rovigo, nel posto del cuore di Belen. Poi, improvvisamente, qualcosa si è rotto. Soltanto pochi giorni fa si è diffusa la notizia della fine della relazione e delle paure della showgirl per il futuro, ma la rottura è rimasta avvolta nel mistero dal momento che non ci sono state né conferme né smentite da parte dei diretti interessati, almeno per il momento. Il ruolo di Stefano De Martino L'altro aspetto da chiarire, nel caso in cui la separazione fosse confermata, sarebbero i motivi della rottura. Cos'è successo tra i due? Stando a quanto rivelato dal settimanale oggi, all'origine della crisi ci sarebbe niente meno che Stefano De Martino. Il conduttore di affari tuo è in modo volto di punta della RAI, infatti, occuperebbe ancora un posto speciale nel cuore di Belen Rodriguez, la quale non avrebbe mai propriamente superato la fine della storia d'amore con l'ex marito. Non ha mai elaborato davvero il lutto della separazione da Stefano De Martino si legge sul magazine, che riconduce alla rottura con De Martino tutte le recenti difficoltà, ed elusioni, amorose della showgirl argentina. Anestetizza l'insoddisfazione in una confusa girandola di relazioni. Se, da un lato, la vita privata e l'allontanamento da Angelo Edoardo Gavano siano ancora tutte da chiarire, dall'altro Belen si può consolare con la carriera. Dal momento che la conduttrice è pronta a tornare in tv dopo un anno sabbatico su nove a partire dalla prossima stagione dopo aver firmato per Warner Brothers Discovery.